Iniziamo, 2, 1, inizio e ripetiamo! Si va a capire da questo log, questa pagina DOS, di una base in cui si è persa la comunicazione, in pratica è stata effettuata una spedizione, sono state preparate le persone per questa spedizione perché questa base non rispondeva più alle comunicazioni, la spedizione arriva, perdono la comunicazione anche con questa spedizione e finisce lì. Il tutto poi riprende 20 anni dopo, nel 75, prima eravamo nel 55, con un nuovo invio di nuove persone. Il gioco, come vi dicevo, è un log like, è in italiano e ha questo effetto che non credo sia levabile, di... non so, schermo CRT, chiamiamolo così, effetto pixel, normale, basso, possiamo aumentarlo o diminuirlo. Si può diminuire? Ma no, lasciamolo così, vi faccio vedere il gioco com'è naturalmente. Allora, si gioca a difficoltà media e noi siamo, ovviamente l'ambientazione è il Giappone, non ve l'ho detto, insomma. Ci fanno salire su quelle barche di legno, armi puntate alla schiena perché la località è segreta, ci viene data un'arma con qualche munizione, hai più fortunato in fucile automatico. Questo per dire che l'inizio è casuale, è sempre diverso anche il livello di mappe. Non ho mai capito perché ci mandino laggiù uno alla volta. Avremo qualche possibilità con una spedizione di più persone? Ne ho visti partire a decine nelle ultime settimane, uomini, donne, giovani, vecchi, nessuno è mai tornato. Una nuova barca lascia la nave ogni 12, massimo 24 ore. Le vedo sparire nella nebbia, sotto la pioggia che non sembra finirà mai di cadere. Dicono che la struttura non sia lontana da qui, non più di 4 miglia nautiche, poco più di 3 ore, prima di raggiungere la spiaggia. Sempre che le onde non avvicinano la barca, per poi inghiottirti nel buio dell'oceano. Il prossimo turno è il mio. Quindi andiamo anche noi. Noi siamo Chiaki Kiba, feme, 33 anni, 1,69 m di altezza, l'ora e il giorno di inizio. Noi siamo arrivati. Questa è la grafica. È come se fossimo ripresi costantemente da una telecamera di videosorveglianza. Abbiamo il tutorial, che ci consente di capire con lo spazio, ci schiviamo, saltiamo, insomma, corriamo. Tab apriamo la mappa, cool inventario, G il gadget e F il dispositivo. In una precedente era hanno trovato per dire un drone e andava lanciato, non era un equipaggiamento ma era proprio una cosa da lancio. E stava intorno a me un po' stile mia automata per proteggermi e sparare i nemici. In questo caso trovo placche di protezione. Muzi, muzi, ce l'ho già. Crediti, il muzi ce l'ho già. Quindi io premo tab, vedete la mappa, premo la cool, vedete che cosa ho. Ho un muzi. C'è un'immagine, c'è una mitraglietta in pratica. Proiettili. Ho un martello e le placche. Praticamente noi, cliccando con il tasto destro, miriamo e spariamo, ma se io clicco col sinistro senza cliccare prima col destro, userò l'arma, che in questo caso è un martello. Iniziamo. Si inizia a esplorare. La telecamera si avvicina e si allontana in automatico, in base all'importanza del luogo dove ci troviamo. Ora vediamo che davanti a noi abbiamo quattro porte, due sopra e una sotto. Io adesso vorrei andare prima in questa sotto, vedete cosa c'è. Tengo sempre puntato perché è un error like, si muore, si riparte con un altro personaggio, un altro volontario per questa spedizione e un luogo completamente diverso. Qui lampeggia, quindi probabilmente c'è qualcosa con cui interagire. Cartucce calibro 12, drone con fucile automatico e celle energetiche. È quello che vi dicevo. Questa stanza circolare mi porta a un'altra stanza. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. In alto a sinistra, vedete, adesso posso caricare. Posso, vedete, la vita. E a 0 su 100 invece non so cosa sia. Vabbè, siamo già messi malissimo. Scusate, ma devo assolutamente fuggire. Mamma mia, ce n'è un altro anche là. Ok, quello però è quasi morto così. Perfetto, no, voglio fare una cosa. Prendo questo, equipaggio il drone e lo lancio col tasto G. Vedete che gira intorno a me e ha una vita di 55. Mi dà una mano, perlomeno. O sono le munizioni, devo capire. Comunque, abbiamo abbattuto il nemico. Ora, mi domando, dato che è una zona... Ok, ho finito anche i colpi. Il drone però c'è ancora. Dato che è una zona così protetta, magari c'è qualcosa di interessante all'interno. Vediamo la mappa. E non me la carico finché non entro. È una stanza enorme questa. E vediamo se c'è qualcosa che lampeggia. Ok. Sono le munizioni. Sono le munizioni del drone che quindi, immagino, presumo, non rimarrà con noi per sempre. Su tanti oggetti è possibile spingerli quando sono leggeri. Qua c'è qualcosa, c'è una porta. Faccio un piccolo corrido. Oh, mi stavano prendendo... Ok. Qui c'è qualcosa. E quando c'è la... Vedete l'ombra. Beh, bello. Apri. Proiettili piccolo calibro. Ok. Munizioni esaurite. No, non ho niente. Assolutamente niente. Non ho neanche una pistola, immagino. Fammi vedere. Martello, placche di protezione. Ok. Lo recuperate. Quindi... A, A e armor. Ok. In alto a sinistra la A e l'armatura. Scusa, potresti... Ok, grazie. No, anche perché io posso solo colpire corpo a corpo, ma... Allora, fatemi vedere. Qua sotto abbiamo esplorato tutto. C'è una porta anche qui. Spero di trovare qualcosa. C'è qualcosa qui? No. Eccoli lì. Eh, ha quasi finito i colpi il drone, eh. Cinque colpi ancora. Speriamo di trovare qualcosa. C'è una porta. Ok, il drone è finito. Il drone non c'è più. In compenso, ho un nemico che mi sta facendo il paiolo. No, 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 no. Sta andando malissimo. Sta andando malissimo. Però lì c'è qualcosa. Magari troviamo qualcosa. Placca di protezione. Eh, e continuo a premere tab, ma... Allora, placca di protezione. Non ho altro. Posso solo attaccare col martello. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Non sono messo bene. E secondo me sono anche entrato in una zona che non è proprio il massimo. Si può schivare, cosa che io non ho ancora fatto finora. Vedete che... C'è anche la stamina. Qua dentro. Sicuro. Ok, però perlomeno questi... Questi non sono... Sono alieni. Non sono... Armati. Quindi finché riesco a tenermi a distanza, Dovei riuscire a contenerli. Infatti non ho perso vita, non ho perso armatura. Però questi mi sembrano già un po' più... Si fa un po' più di fatica quando siamo sotto questo sangue, Diciamo, questi corpi versati luminescenti. Io non so quanto poi possa essere fastidioso per voi vederlo in video. Giocando poi lo si va a comprendere. È un indie assolutamente particolare, non... Sono morto. Sono morto. Avevamo dei compiti, riavviare il generatore, riavviare il generatore ai laboratori. Ok. E niente, si ricomincia. Apro. Prendo tutte queste cose. Abbiamo un coltello da cucina, adesso non più un martello. Proiettili. Il muzzi l'abbiamo ancora. Perfetto. Andiamo avanti. L'arma mi sembra un po' più efficace di quella di prima. Ho detto l'ambientazione è diversa, infatti... Adesso possiamo andare solo di qua. Teniamo d'occhio, bene. Raccolgo. C'è un libro, Diario Personale, di Daiki Okamoto. L'origine di questa struttura non ha mai smesso di sorprendermi. Iniziati i lavori di costruzione nel 1947, a soli due anni dalla guerra, nel 1948, la base è diventata ufficialmente operativa. La tecnologia principale, oggetto di studi, SSLV, Sub-Speed of Light Waves, ha avuto completato il prototipo nel 1949, ok? Anche in cui è stato inviato il primo segnale verso Alpha Centauri. Se non fossi stato qui a testimoniare la velocità del segnale, meno del 30% inferiore alla velocità della luce, io stesso non potrei crederci. Nel corso degli anni sono stati inviati altri 4 segnali, ma attendemmo quasi 5 anni per l'invio della destinazione, ok? Quindi iniziamo a capire le nuove informazioni su questo mondo. Io non lo so perché, poi magari dico un'eresia, ma mi ricorda a un non so che anche di Returnal. Cerco di centellinare i colpi, perché è questo, non l'avevo visto. Avanza piano. Guarda, posso attaccarlo a mano, così risparmi i colpi. Però mi sta facendo male, eh. Ok. Vediamo. No. Ma, eh, sì, ci sono due porte qua. Sperate, qua si sono di là. Io difficilmente accetto giochi eccessivamente particolari, ma questo mi ha intrigato davvero. Qua c'è, e potremmo farla un po' con, non so, una sorta di commentario sulla lore. C'è una serie di sedie che mi viene da pensare, magari una serie di interrogatori, chi lo sa. Però intanto abbiamo preso un'altra arma, quindi apro con la Q, equipaggio non i muzzi, ma il fucile a pompa. Così che magari facciamo un po' più di danno, vediamo. Ricarico, no, è già posto. Vediamo. C'è una porta. No, qua è finito. Però c'è qualcosa qui. Cos'è questo? Premi interruttore. Bellissimo, c'è il codice. Ma non abbiamo il codice, purtroppo. Bisogna tornare indietro. Bisogna ricordarsi che qui c'è un codice. Ma c'è la X, quindi mi ricordo che è lì. Bellissimo che le sedie saltano via. Mi emoziono per poco, lo so. E niente, qua abbiamo visto tutto. Dobbiamo andare su, su di qua. Punto. Vado vicino alle luci. Ah, Upgrade Station. Ok. Spendendo del denaro, però viene solo 60 dollari in momento. Dollari, crediti. Si può potenziare, ok, come ogni log like che si rispetti. Questo potrebbe essere un bel log like. Esce, non so dire il prezzo perché esce il 16 di ottobre, lo sto registrando prima. Quindi purtroppo non posso essere d'aiuto. Comunque di là c'è una porta. Questo. Perché non si capisce dove sono i nemici. Ok. Non vedo l'ora di sparare due colpi con il mio nuovo fucile a pompa. Le ombre sono veramente belle. Belle. Sì, 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 sì. Assolutamente. Si può andare solo di qua perché di qua è chiuso. Vediamo cosa c'è di qua. Magari troviamo il codice da qualche parte. Un po' alien, un po'... Uh, la, la, la. Fa un bel danno questo. Però sparano anche loro col fucile a pompa. Ok. Ok. Nel dubbio un colpo ancora. Raccogli. Parla Tassuimurakami. Sicurezza. Il turno del 15 novembre 54. Segnalare un blocco del generatore numero 2. 2.209. Rechiesto è via manuale. Mi sto dirigendo verso la stanza Iwata. So che il prossimo turno non turno nel tuo. Nel caso se ne fosse ancora... 6.5.3.6. Perfetto. Allora, vediamo quanto va su questa stanza. Io non la rischio. 6.5.3.6. O 6.5.2.6. Quello che è. O comunque 6.5. 6.6. Andiamo su. E vediamo. Torno giù. Eh, questo è un labirinto. Però so che di qua... Tecnicamente, fatemi ricaricare il fucile a pompa. Bello potente. Ma ho perso un po' di vita. Purtroppo. Allora, qua c'è qualcosa. Vedete che mi indicano dei cerchi. Ah, perché l'upgrade station è un conto. L'upgrade... E questa invece cos'è? Ah, no. È sempre la stessa cosa. Ok. Allora, qua la stage che ho fatto prima. Vediamo se... È giusto di qua? Sì. 6.5.3.6. Vediamo se è giusta. Tecnicamente è chiusa, quindi... Ok, abbiamo aperto la porta. C'è il generatore. Credo. Vedete che questi oggettini leggeri li potete spostare. Non distruggere. Vediamo. Primo interruttore. Riavviare. Ok. Dei servizi informatici. Perfetto. Abbiamo riavviato un generatore. Uno dei tanti obiettivi che abbiamo. Ora. Io tornerei là. Da dove sono venuto. Perché la strada andava avanti. E c'era quel tizio iperarmato che proteggeva la sua... Il suo codice. Ho preso anche dei soldi. Non so come ho preso dei soldi. Però magari posso potenziarmi qualcosa. 220. Mi faccio più salute. Di 1, non di 2. Lo faccio, va. Ok. Ho un massimale di 110. Adesso la vita è rimasta la stessa. Non è che mi illudo di aver... Di essermi curato. Ma il massimale della vita è maggiore. Ho speso un po' di soldi. Non c'è ricarico di partita. Cioè si muore e si ricomincia. Ma è tornato. Ah. Oh. Oh. Mi sono fatto spaventare io. Allora. Allora. Da di qua. Dove eravamo prima. E vediamo adesso se... Questo cos'è? Era per terra? Ah no. È quello di prima. È quello di prima. È quello di prima. Bisognerebbe... Evitare di buttare i colpi. Perché non è male. Ok. Ok. Qua c'è qualcosa. Proiettili piccolo calibro. Se avessi una pistola. Qua c'è un altro generatore. Ok. Arriviamo il generatore principale. Ma come passa il tempo? Come passa veloce il tempo? Ok. Allora. Ok. Cartucce. Ok. Noi adesso tecnicamente abbiamo riavviato il generatore e rivia il generatore dei laboratori. Quindi bisognerà andare a... Uh. Quello lì ha armato tanto. Mamma mia. Qua mi fanno... Mi fanno... Mi aprono. Mi aprono. Sì. Metti in pausa. Ok. Metto il musì. Eh. Sono morto. Ok. Adesso ne prendo un altro di 51 anni. Un uomo. E si ricomincia. Di nuovo da capo. Vedete qua c'è la barca. Dove siamo sbarcati. Ed entriamo nel complesso. Il gioco Empty Shell è davvero interessante. Benché abbia una grafica un po' particolare. che lo rende veramente di nicchia. Perché potrebbe non piacere a tanti. Però il gioco è sfidante. Interessante. Lo stanno giocando a livello medio. Si potrebbe giocare a livello facile, difficile o anche incubo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao.